se non erro andrite mythic farà un film a silver moon devo assolutamente parteciparvi che palle sto caricamento è più lento dei treni dell'alitalia e pensare che con la mia voce gestisco le stazioni eccoci arrivati ora andiamo a cercare la regista così gli potrò chiedere se mi prende per una particina nel suo film dopo tanto tempo mi sono anche lavto le ascelle ma tanto continueranno a putrefarsi visto che sono un non morto xd ma perché sti alfi del sangue stanno sempre in cerchio a fissari non hanno un emerito cazzo da fare e da quando hanno creato burning crusade che sono lì a vegetare bov che accoglienza sapete dove posso trovare la regista lo puoi trovare domani a undercity e che cazzo sono venuto qua per niente potevo rimanere a casa a ricostruire il mio cazzo che ormai per la cronata è stato tranciato via quando ervio dallo sfondacoli di loquendo italia per questo lo odierò a vita ah è vero mi ero scordato che sono già morto xd buon ragazzi ci vediamo domani a undercity e li troverò quel cazzo di regista così forse avrò una particina nel suo film non vedo l'ora allora ragazzi a domani e continuate a seguirmi ciao e ricordate ragazze che se volete una buona scopata chiamatemi ciao